E' in corso la settimana europea dello sport che coinvolge anche la WISP a Bruzzo Molise, soprattutto il settore tennis. Siamo in questi splendidi campi da tennis del circolo di Mariana di Città Sant'Angelo. Sono tante le iniziative che avete messo in campo, soprattutto in questa settimana europea dello sport. Certo, noi ci occupiamo di tennis a 360 gradi. La WISP, come si sa, è lo sport per tutti. Quindi lo sport aperto a tutti coloro i quali non possono permettersi di fare attività sportiva. Quindi noi abbiamo assolutamente aderito a questa settimana della solidarietà, dando la possibilità a tutti i bambini che volessero, di famiglie che non hanno la disponibilità economica per poter far frequentare i ragazzi un'attività sportiva, gratuitamente l'avvio a questo sport. Ovviamente è uno sport che aiuta il distanziamento sociale in questo momento di Covid, perché noi rispettiamo tutti i protocolli relativi al distanziamento e la sanificazione e quant'altro. Ovviamente abbiamo gli spogliatoi e le docce non aperte, perché questo ci dice il CONI, però per il resto abbiamo assolutamente la certezza che quantomeno facciamo di tutto per evitare il Covid. Noi siamo un centro tecnico della WISP, oltre ad essere anche un centro tecnico della Federazione Italiana Tennis, con questo non significa che le due cose non possono essere unite, anzi tutt'altro. La WISP si occupa di avviamento allo sport di base e le federazioni dovrebbero occuparsi dell'avviamento allo sport di alto livello, e quindi preparazione olimpica e quant'altro. Noi abbiamo aderito già da tempo al discorso sport e salute, che è stato fatto nell'edizione Young 2019-2020, in cui abbiamo fatto partecipare alcuni ragazzi alle attività legate sia al tennis che al badminton, perché noi siamo anche affiliati qui come Circolo Tennis di Città Sant'Angelo, dove stiamo parlando, che è affiliato ovviamente alla WISP, anche affiliati alla Federazione Italiana Badminton, con la quale abbiamo fatto un progetto nelle scuole elementari di Silvi e di Pineto, coinvolgendo più di 400 bambini, per le attività legate a racchette di classe. È un progetto voluto insieme al MIUR, che ha coinvolto tantissime migliaia di bambini in tutta Italia. Questo progetto, peccato, noi siamo riusciti a concluderlo, perché lo abbiamo fatto entro febbraio, ma avrebbe dovuto essere poi, come dire, avere una conclusione più bella, presso una stazione balneare, dove sarebbe stata fatta una bellissima manifestazione finale. Purtroppo speriamo che il 2021 possa darci qualche possibilità in più sportiva, e soprattutto per questi bambini levarli dalla strada, dai computer, e riportarli veramente su un'attività sana, come il tennis. Grazie a tutti.